Ben tornati in questo nuovo video tutorial, in questa video lezione in cui vi parlerò di 7-Zip. 7-Zip è un programma molto piccolo, molto semplice, ciò nonostante è utilissimo perché serve per una gestione molto più efficiente dei file zip e non solo, perché in realtà gestisce anche qualsiasi altro genere di file compresso, per esempio come i file RAR o anche altri tipi di file meno comuni. Bene, questo è l'indirizzo che dobbiamo visitare, quindi mi raccomando non bisogna sbagliare assolutamente l'indirizzo del sito per evitare di capitare su siti imitazione che quindi potrebbero contenere delle truffe o dei virus. L'indirizzo è www.7-zip.org, molto importante non sbagliare www.7-zip.org, vado a cliccare qui dove dice vai oppure premo invio sulla tastiera per visualizzare il sito in questione. Eccoci arrivati, anche il sito è molto semplice, purtroppo la lingua non è quella italiana, però è piuttosto facile comprendere quello che c'è da fare. In pratica già nella home page, senza cliccare alcun link, ci sono le versioni di 7-zip scaricabili, quella che interessa a noi è questa, c'è la versione stabile che è la 4.57 attualmente, può essere che nel momento in cui leggete il tutorial, visualizzate il tutorial, sia uscita una nuova versione. Infatti è già pronta, come vedete, la versione 4.60 che è più nuova, però come vedete è ancora in fase beta, cioè quando accanto ad un software c'è scritto beta, vuol dire che è una versione di test, una versione di prova che non è ancora definitiva e quindi insomma non è opportuno scaricare una versione beta per utilizzarla come produttività normale. E quindi andremo a scaricare la versione stabile, cioè quella senza la scritta beta, la 4.57 attualmente. Qui ci vengono date due possibilità, quella che interessa a noi utilizzatori di Windows XP o comunque di Windows Vista a 32 bit è la versione X, se invece avete Windows Vista a 64 bit in quel caso scaricherete quest'altra versione, comunque almeno attualmente è piuttosto raro che vi capiti di avere questa versione di Windows Vista. Quindi scaricheremo la versione X, vado a cliccare su Download e vengo reindirizzato sulla pagina dello scaricamento, vediamo, probabilmente ci porterà sul sito SourceForge, che è un sito piuttosto ricorrente nel caso dell'open source, perché in pratica la maggior parte dei progetti open source vengono ospitati appunto su questo sito. Una volta apparsa la pagina di SourceForge, l'Internet Explorer che stiamo utilizzando per scaricare il file ci avvisa che per facilitare la protezione è stato bloccato il download del file dal sito, cioè temendo che si possa trattare di un virus, Internet Explorer ha giustamente bloccato questo scaricamento, è un sistema di sicurezza. Ovviamente noi sappiamo che il file che stiamo scaricando assolutamente non è un virus, ma è un programma di grande utilità, quindi cliccando qui su questa fascia e scegliendo Scarica File, in pratica stiamo dicendo a Windows di fidarsi della fonte da cui stiamo scaricando questo oggetto. Attendiamo ancora qualche istante, si ricarica nuovamente la stessa pagina, ma questa volta non viene bloccato lo scaricamento e quindi si apre questa finestra. che ci chiede se vogliamo eseguire oppure aprire il file, noi in realtà lo vogliamo salvare, il file si chiama come vedete 7Z, cioè 7Zip, 457, perché la versione che stiamo scaricando è la versione 4.57. Clicchiamo quindi salva e ovviamente ci verrà chiesto dove vogliamo salvare, io ho inserito una mia pennetta USB e quindi salverò in quella, eccola qua, ma ovviamente voi potete tranquillamente salvare anche in una cartella del vostro hard disk o ovunque abbiate deciso di scaricare questo file. A dire la verità si tratta di un file così piccolo nella sua dimensione che potrebbe addirittura entrare su un floppy, cosa piuttosto rara per i programmi che normalmente occupano certamente più spazio di quello disponibile su un floppy. Ricordiamoci il nome del file che è 7Z457.exe, tutti i programmi sono file con estensione exe di solito, attenzione ovviamente che anche i virus possono avere l'estensione exe, è per questo che prima Internet Explorer ci aveva allertato, ci aveva avvisato. In questo caso però la fonte è sicura, SourceForge è un sito sicuro, quindi sappiamo che da SourceForge non possono arrivare truffe o virus. Quindi clicchiamo salva e attendiamo. Come vedete l'attesa è pochissima rispetto ad altri tutorial dove avete visto che magari per scaricare un programma ci voleva un po' di tempo. Qui è stato velocissimo perché si tratta di un programma minuscolo, è solo 840 KB, meno di un MB e quindi è stato scaricato in un secondo. Questo è un grosso vantaggio perché i programmi piccoli e leggeri come 7Zip non vanno ad appesantire il funzionamento di Windows, quindi è ottimo il fatto di avere un programma così piccolo. Se paragonato per esempio a WinZip o WinRar che sono programmi commerciali, quindi a pagamento, che fanno più o meno le stesse cose di 7Zip, insomma è un grosso vantaggio questo di avere un file così piccolo. Apriamo quindi risorse del computer e di conseguenza entriamo nella mia pennetta USB, eccola qui, dove insieme ad altre cose c'è il nostro file 7z457.exe, il file che abbiamo scaricato da Internet. Ed è questo che dovremo installare. Andiamo ad aprire l'installazione, quindi faccio doppio clic su questo file. Benissimo, parte immediatamente l'installazione, purtroppo è in inglese ma in realtà è così facile che non ci sono problemi. Ci viene chiesta la cartella in cui installare ed è un'opzione che non dovete modificare. Quindi andiamo a cliccare install, parte l'installazione che è velocissima perché il file è piccolissimo e basta, è già finita. Quindi mi basta cliccare finish, in realtà ho già installato. Guardate quanto sia leggero appunto questo file. Ora cercheremo di vederne l'utilizzo, cioè come si usa 7Zip. Allora, innanzitutto, inizialmente appena installato 7Zip, per non essere troppo invasivo, non va a modificare l'icona dei file zip lasciando, come vedete, l'icona classica di Windows. Volendo però si potrebbe dire a 7Zip di associare la propria icona a tutti i file compressi, quindi per esempio ai zip, ai RAR e agli altri file compressi. Quindi questo secondo me facilita un po' il riconoscimento senza dover stare a leggere l'estensione dei file, quindi la sigla finale di tre lettere, facilita il riconoscimento dei file compressi. Quindi prima di iniziare magari facciamo questa opzione. Qui intanto il file di installazione si può anche cancellare, una volta installato il programma non è più necessario conservarlo, quindi io posso fare tasto destro, elimina e cancello il file che avevo scaricato da internet. Perché ormai ho installato il programma, quindi non mi serve più. E chiudo qui la X. Bene, quindi come vi dicevo andiamo ad aprire il 7Zip. Da start tutti i programmi e poi vengo a 7Zip ed apro il programma che si chiama 7Zip File Manager. Questa cosa mi servirà per dire a 7Zip a quali tipi di file voglio associare la sua icona. Quindi a questo punto una volta aperto il 7Zip File Manager, cliccando strumenti opzioni, mi ritrovo nella finestra che mi mostra tutti i tipi di file compressi che 7Zip è in grado di gestire. E come vedete praticamente sono tutti i tipi di file compressi che esistono. Cioè 7Zip apre qualsiasi tipo di file compresso. Ora obiettivamente i più comuni sono certamente i zip, e quindi metto la spunta qui. I RAR e quindi anche spunto questi. E poi vi consiglierei anche di spuntare questa altra opzione, cioè quella che si riferisce proprio ai file 7Z, che in pratica sono i file nativi di 7Zip. Cioè quelli che solo 7Zip è in grado di aprire. Poi vi spiego per quale motivo. Ovviamente potrei anche cliccare selezionare tutto, quindi in maniera tale che vengano le spunte su tutti i tipi di file. Però diciamo che gli altri sono più rari, e quindi magari possiamo anche evitare di metterla. Comunque in generale questa operazione di andare a selezionare questi tipi di file si poteva anche non fare. L'unica differenza sarebbe stata che il Windows invece di associare l'icona di 7Zip a questi tre file che abbiamo selezionato, questi tre tipi di file che abbiamo selezionato, avrebbe lasciato le icone sue classiche. Quindi comunque sia, secondo me se andate a dare questa opzione è un po' meglio, è meglio configurate il programma. Quindi do OK e poi chiudo la X del 7Zip Manager. Quindi chiudo la X e siamo a posto. A questo punto dobbiamo solo provare il funzionamento del programma. Per eseguire quindi una prova delle funzionalità di 7Zip, torniamo in risorse del computer ed apriamo la famosa pennetta USB che avevo connesso. Ecco, intanto vedete la differenza rispetto a prima, quando il file ufficio.zip aveva ancora l'icona di Windows, cioè quella con la classica cerniera. E invece adesso troviamo l'icona di 7Zip che è in pratica questa Z Blue. Questo dipende proprio dal fatto che siamo andati a spuntare in strumenti opzioni l'opzione zip. Accadrà lo stesso sia con i file RAR che con i file 7Z, cioè le tre possibilità che avevamo selezionato prima. Allora questo è un file compresso adesso, è grande 55 KB, io adesso devo provare a decomprimerlo per vederne il contenuto. Supponiamo che si tratti di un file zip che mi è stato inviato per posta elettronica da un collega, da un amico, eccetera, eccetera. Quindi se io clicco con il destro, nel menu contestuale, cioè nel menu che appare normalmente con il tasto destro, c'è questa scritta 7Zip che ovviamente non ci sarebbe se non avessi installato il programma. Esce fuori quindi automaticamente dopo l'installazione. E qui ci sono tutte le opzioni possibili del programma. In questo caso a me interessano le opzioni di estrazione, quindi estrai i file, estrai qui, estrai in ufficio, contro barra. Quindi in pratica una di queste tre devo scegliere per poter decomprimere il file ed estrarne il contenuto. Quella che vi consiglio praticamente sempre di usare è questa, estrai in, e poi lui mette il nome del file che abbiamo cliccato. Quindi ora c'è scritto ufficio perché il file si chiama ufficio, va bene? Altrimenti apparirebbe un altro nome di file. Quindi estrai in e poi il nome del file su cui abbiamo cliccato. Scegliendo questa opzione, quindi vi consiglio di usare sempre questa, che cosa accade? Ecco, dopo una velocissima esecuzione, avete visto quanto sia veloce il 7Zip, viene creata una cartella con lo stesso nome del file originale, solo che questo è quello compresso, infatti è 55 KB. Questa, la cartellina, ecco come vedete, è apparso la dimensione, è 259 KB. Cioè il contenuto è lo stesso, solo che in questo caso è decompresso. Quindi se adesso vado ad aprire la cartella ufficio, al suo interno trovo 4 file, che sono quei 4 che erano contenuti originariamente nel file zip, nel file ufficio.zip. Il file ufficio zip era grande 54-55 KB, quindi molto piccolo, invece come vedete, ognuno di questi, magari già preso singolarmente, prendete questo, 132, supera la grandezza dell'archivio zip, che invece li includeva tutti e quattro. Quindi un file zip, un file compresso, ha questo vantaggio, cioè quello di ridurre le dimensioni di un file o di un gruppo di file, come in questo caso, e quindi facilitare l'invio per posta elettronica di informazioni magari che occupavano più spazio, più KB. Ora torno indietro, benissimo. Dobbiamo provare ora la funzionalità di compressione. Dobbiamo vedere come il 7Zip se la cava nel comprimere i file, avendo invece già provato la decompressione. Intanto questo file ufficio zip, che ora non servirebbe più, potrei anche cancellarlo, però in questo caso lo rinomino, così dopo possiamo fare un confronto. Quindi lo vado a rinominare con un altro nome, in un certo senso è un po' come se l'avessi cancellato, ecco, dico vecchio ufficio zip. Va bene? Quindi questo è il file originale che abbiamo decompresso e dal suo interno è venuta fuori questa cartella. Adesso invece, supponendo di avere solo questa e di non avere più questo, la voglio comprimere. Questa cartella, vi ricordo, è grande 259 KB. Nel comprimerla deve diventare più piccola, no? Quindi vediamo che cosa riusciamo ad ottenere con 7Zip. Clicco con il tasto destro, poi vado sempre sulla voce 7Zip. Mentre prima avevamo usato i comandi di estrazione, ora dobbiamo usare i comandi aggiungi. E ce ne sono due. Aggiungi a ufficio 7Z e aggiungi a ufficio zip. Se vogliamo creare un normale file compresso, quindi un file zip, che sono quelli più utilizzati perché chiunque li può aprire anche senza installare alcun programma, allora mi basta cliccare qui. Aggiungi a ufficio zip. C'è sempre un'esecuzione rapidissima da parte di 7Zip ed appare questa nuova icona che in realtà contiene in pratica lo stesso contenuto di quest'altra originale e che come vedete ha la stessa dimensione, 54 KB. Cioè abbiamo di nuovo ottenuto la compressione. La cartella originale è 259, è diventata 5 volte più piccola, un quinto quindi, comprimendola in un file zip. Un altro tipo di file compresso che posso ottenere con il 7Zip, probabilmente meno utilizzato, è il file 7Z. Io posso fare quindi 7Zip, questa quindi magari è una funzionalità che vi capiterà molto meno spesso di utilizzare. però ecco, se clicco quest'altro comando, aggiungi a ufficio 7Z, ottengo un altro file, sempre compresso, con un'estensione diversa, vedete, 7Z anziché zip, ed è più piccolo, è 48 KB anziché 54. Cioè con questo nuovo formato, il formato 7Z, che evidentemente è il formato nativo di 7Zip, cioè è un formato che funziona solo con questo programma e non potrebbe essere aperto questo tipo di file con altri programmi di compressione, questo formato è maggiormente compresso di quello normale zip, quindi si ottengono risultati più efficienti con questo formato. Però lo svantaggio è che, se io poi devo inviare un'email con questo file ad una persona, mi devo assicurare che quella persona abbia 7Zip, altrimenti non potrà leggere il contenuto. Mentre quando invio un file zip normale, qualsiasi programma di decompressione abbia il destinatario, lo può aprire comunque. Anzi, anche se non ha installato alcun programma di decompressione, già Windows stesso è in grado di aprire i file zip, e invece non è in grado di aprire i file 7Z, se prima non ho installato il 7Zip. Spero di avervi convinto in questo video tutorial ad installare questo software open source, magari avevate già WinZip o WinRAR installati su vostro computer, spero quindi di avervi dimostrato quanto sia migliore e più efficiente questo programmino gratuito e libero. Arrivederci al prossimo video tutorial.